Con la collaborazione del nostro sistema informativi siamo dotati di un software che consente all'utenza di presentare l'istanza, le diverse tipologie di utenze che abbiamo, di presentare le istanze per l'ottenimento del permesso di circolazione ZTL direttamente da casa attraverso il proprio PC, cioè tutto online e negli stessi termini, nel stesso modo, anche il permesso gli verrà rilasciato attraverso questo applicativo. Quindi senza più la necessità di recarsi fisicamente, questo è il dato saliente, la necessità di recarsi fisicamente presso l'ufficio permessi. Questo vuole alleggerire il carico di lavoro dato dal rapporto con l'utenza del nostro ufficio permessi, ma vuole soprattutto, dal mio punto di vista, ridurre anche i tempi e i disagi per chi ha la necessità di accedere alla ZTL, quindi di ottenere il permesso che fino ad oggi doveva recarsi via dei scalchi, fare la coda, poi magari recarsi via dei scalchi in un secondo momento per ottenere il rilascio del permesso, da domani non avrà più bisogno di tutto ciò, ma con il proprio PC da casa potrà ottenere il permesso necessario.